buongiorno sono carlo viale e sono manager panasonic industry italia per la parte motion control in particolare azionamenti e motori brushless durante questo mio breve intervento vedremo come la ricerca della produttività in ambito robotico passa se vogliamo attraverso la verticalità di funzioni specifiche funzioni meccatroniche specifiche e l'orizzontalità della gestione dei dati partiamo intanto da una definizione che si trova una delle definizioni che si trovano in letteratura di che cos'è la robotica industriale robotica industriale è quella branca dell'automazione che si occupa del controllo intelligente di sistemi meccanici complessi ed è quindi impatta su tutta una serie di applicazioni che vanno dalla movimentazione alle lavorazioni assemblaggio manipolazioni quindi si può dire che pervasiva rispetto alla all'automazione ed è quindi un elemento molto importante nell'ambito dell'automazione industriale e quindi essendo molto importante ha un impatto diretto su quello che è la produttività dei sistemi produttività che viene continuamente ricercata soprattutto anche in questi periodo di pandemia la ricerca della produttività quindi di produrre meglio di produrre di più di produrre anche con meno risorse è qualcosa che ha un impatto molto forte sugli end user questa ricerca della produttività quindi è una richiesta continua che viene fatta da parte degli end user verso chi costruisce sistemi e macchine in automazione e come si può raggiungere questa produttività ovviamente bisogna alla fine andare a lavorare su dettagli si va a cercare di smussare di sistemare quei dettagli che mi permettono di avere più versatilità più affidabilità più accuratezza più velocità a seconda dell'applicazione e parlando di motion control e parlando di robotica sicuramente quindi stiamo parlando di movimento controllo del movimento elementi degli elementi componenti fondamentali e critici se vogliamo sono gli azionamenti quindi il comando quelle quei sistemi che vanno a comandare gli assi a comandare i motori e sempre di più questi azionamenti hanno a bordo una serie di funzioni quindi una sorta di intelligenza molto verticale meccatronica che lavora su specifiche specifici aspetti e diciamo in sinergia e in maniera complementare rispetto al controllo del sistema quindi io ho il mio controllo che fa il suo però demanda o può demandare una serie di specifiche azioni molto molto definite all'azionamento e vi faccio qualche esempio se io ragiono in termini di movimentazione una delle criticità in ambito robotico e quello della della gestione delle variazioni dei carichi inerziali perché io quando sposto un carico o mi muovo quindi sposto la posizione ovviamente il rapporto di inerzia tra motore e carico può può cambiare e la variazione di questo rapporto di inerzia può portare delle perturbazioni nella movimentazione queste perturbazioni devono essere in qualche modo compensate possono essere compensate a livello di controllo quindi posso andare a cercare di compensarle variando ad esempio le curve di comando però il risultato può non essere soddisfacente e per i tempi di intervento e per magari un sovraccarico di una complicazione anche a livello di di gestione e di software una possibile soluzione è attivare utilizzare azionamenti che abbiano a bordo la possibilità di andare in automatico a verificare che c'è stata una variazione di carico inerziale e quindi in tempo reale varia si accorgono di questa variazione e in tempo reale vanno anche a compensare quelle coppie di disturbo che sono quelle che poi che perturbano il mio movimento quindi il risultato è io ottengo una maggiore accuratezza indipendentemente dal rapporto di inerzia tra carico e motore un altro un altro ambito è un altro problema un'altra un'altra situazione che può avvenire in ambito robotico è sicuramente quello legato alle vibrazioni i robot la movimentazione robotica come spesso altre movimentazioni in ambito automazione industriale non amano le vibrazioni le vibrazioni portano problemi di di accuratezza problemi di precisione di posizionamento e e quindi vanno impattare direttamente su quella che la produttività perché tipicamente succede che se io aumento la velocità il mio sistema comincia a vibrare e quindi o riduco la velocità o mi tengo le vibrazioni ridurre la velocità se siamo alla ricerca della produttività può non essere un'opzione e quindi in questo caso l'utilizzo di azionamenti che in automatico vanno ad individuare eventuali frequenze di risonanza della macchina quindi individuano le freglie frequenze associate alle vibrazioni della macchina e le vanno a sopprimere aiutano il sistema a raggiungere velocità volute senza diciamo vibrazione noi abbiamo esempi dove attivando tutta una serie di parametri di funzioni siamo riusciti a ottenere esempio delle produttività una riduzione del tempo ciclo del 10 15 per cento insomma a seconda della situazione mentre se ho molti cicli alla fine della giornata anche un 10 per cento che magari significa qualche decimo di secondo un secondo due secondi alla fine della giornata può significare per l'end user molti un certo numero significativo di prodotti in più che vengono assemblati costruiti quello che si vuole e quindi alla fine denaro un ulteriore esempio dice legato ad esempio a sia la movimentazione che le lavorazioni dove la produttività può essere legata all'accuratezza e spesso è richiesto che il sistema il robot segua in maniera molto molto accurata la linea di la curva di comando del controllo come si dice è richiesto un errore di inseguimento molto molto basso tipicamente per ottenere errori di inseguimento bassi si tende ad irrigidire il sistema quindi a tarare gli azionamenti a tarare gli assi in modo che il sistema sia più rigido quindi aumentando i guadagni questo si porta a volte dietro secondo la meccanica dei problemi di ancora di vibrazioni che come abbiamo visto prima non sono buoni non è una cosa buona e come si può avviare questo a questo problema si può avviare ad esempio attivando a livello di azionamento gli algoritmi a due gradi libertà che sostanzialmente mi permettono di agire in maniera indipendente sul feed forward e sul feedback andando a spostare quello che è il compromesso e quindi ottenendo delle movimentazioni più dolci meno rigide però con errori di inseguimento bassi questo esempio può significare ottenere errori di inseguimento inferiori a mezzo giro motore che in una movimentazione robotica possono essere dei risultati molto 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 buoni fino adesso siamo concentrati sulla parte di prestazione pura però se io ragiono in termini di produttività la produttività è influenzata non solo dalla prestazione pura ma da tutta un'altra serie di fattori che sono se vogliamo legati alla connettività perché la produttività è influenzata da decisioni e strategie che vengono prese in base a un livello che è un livello anche di business per prendere queste decisioni queste strategie sostanzialmente ci sono necessarie informazioni e queste informazioni sono possono essere considerati dei dati correlati quindi io devo partire dall'avere più dati possibili e quindi il mio componente meccatronico in questo caso l'azionamento deve essere in grado di fornire dei dati dei dati anche grezzi la temperatura dell'encoder valori di corrente parametri questi dati devono essere inviati dove sono utili e quindi ho bisogno di un sistema di connettività standard che parte magari da una connettività più legata al motion come può essere esempio un EtherCAT per arrivare poi a sistemi come vedremo più legati all'IoT quindi il dato poi viene aggregato e trasformato in informazione e questa informazione poi mi permette di prendere decisioni e definire strategie quindi riassumendo per raggiungere cos'è quello che concorre alla mia produttività sicuramente una parte è legata alle prestazioni come abbiamo visto prima quindi la prestazione pura quindi riesco a far andare il mio robot più veloce riesco a farlo andare più preciso però ci sono tutta una serie di frattori che sono più legati al fatto di riuscire a non fermare la macchina a essere flessibile a bilanciare meglio i carichi tutti questi fattori hanno un denominatore comune che è quello di trasformare i dati in informazioni e quindi sono legati in qualche modo alla connettività un altro modo di vedere le cose è questo quindi io alla mia sinistra ho il componente che mi mette a disposizione i dati questi dati vengono portati in un sistema di infrastruttura perché poi questa infrastruttura mi permetta a livello alto quindi di avere le informazioni informazioni che mi permettono di prendere le decisioni e di andare a impattare in maniera positiva sul business e questo è diciamo il flusso e per fare questo di cosa ho bisogno come faccio ad abilitare il mio sistema ad avere un impatto poi a livello di business riassumendo un'infrastruttura è un altro punto un altro schema diciamo che riprende gli schemi precedenti quindi devo partire come abbiamo visto da dei componenti che mettono a disposizione i dati devo avere un'infrastruttura standard di comunicazione e affidabile ovviamente e poi devo avere dei sistemi delle macchine dei robot che siano pronti ad integrarsi in un'infrastruttura IoT utilizzando ad esempio un IoT gateway che mi permette poi di utilizzare tutti quei protocolli, quelle tecnologie, le MQTT piuttosto che l'OPC UA, piuttosto che l'accesso diretto ai database per andare a portare i dati e farli trasformare in informazioni che mi permettono di prendere le decisioni di business concludendo abbiamo visto come per aumentare la produttività in ambito robotico quindi dove la movimentazione è in qualche modo critica è molto importante avere dei componenti con a bordo delle funzioni specifiche che vanno ad impattare in maniera molto verticale sulla mia applicazione, sulle mie prestazioni questi componenti devono mettere a disposizione dei dati che tramite una connettività standard riesco poi attraverso un'infrastruttura IoT a trasformare in informazioni che siano poi utili a quelle che sono poi le scelte operative e di business e quindi mi permettono di ottenere i livelli di produttività voluti. Io ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione.